Sono Andrea Casazza, est giornalista del secolo, autore di Imprendibili, la storia della colonna genovese delle Brigatte Rosse. Delle bombe di Savona, devo dire che nell'anno e passa di ricerca che ho fatto per scrivere la storia delle BR Genova, mi sono imbattuto in maniera piuttosto dettagliata, solo nello studio che il PC fece nel 1979, lo studio sul terrorismo che fece all'indomani dell'omicidio di Guido Rossa. In quello studio, che era improntato su una velata, ma neanche troppo accusa agli inquirenti, si faceva notare come a Genova non si era presa in debita attenzione tutto quello che avveniva nell'ambiente della sinistra extraparlamentare. Così a Savona, in occasione delle bombe a cavallo fra il 74 e il 75, erano rimaste non battute strade che portavano, che avevano accesi i riflettori su una serie di giovani rampolli della città, dei quali si erano fatti all'inizio i nomi e poi erano sostanzialmente scomparsi dalle indagini. I relatori di questo studio del PC si domandavano quali tipo di connivenze possibili avevano portato alla scomparsa di queste piste e si domandavano come mai alcuni testimoni che erano intervenuti in fase istruttoria avevano poi dimenticato completamente quello che avevano detto e come mai alcuni degli interrogatori e dei verbali che erano stati redatti erano scomparsi. A Genova in quel periodo, nel 74, avvenivano due cose sostanzialmente importanti dal punto di vista della stagione degli anni di Piombo. C'era la sentenza d'appello per la banda 22 ottobre che era stata la prima banda armata in Italia, nata fra l'altro e non casualmente da un'altra strage, dalla strage di Piazza Fontana. Mario Rossi che all'epoca viveva nel milanese, genovese, torna a Genova proprio sull'onda dello sdegno di quella strage, convinto che quella strage fosse il segnale di un tentativo ormai avanzato dello Stato di volgere a ridisegnare lo Stato in forma autoritaria. Quindi con una serie di compagni e amici mette su questa banda che ha dei richiami squisitamente partigiani, dichiaratamente partigiani, tant'è che teorizzano all'inizio di andare in montagna e di fare da lì, di iniziare dalla montagna delle azioni in città che fossero destabilizzanti dal punto di vista dello Stato italiano. Poi invece iniziano a teorizzare una loro presenza in città con delle azioni che si richiamavano ai gap partigiani, ai gruppi di azione partigiana e iniziano a fare una serie di interferenze televisive, probabilmente qualcuno di voi si ricorderà, venivano interrotte le trasmissioni della RAI, che era peraltro l'unica emittente e c'erano questi proclami che venivano, una voce entrava nelle trasmissioni, venivano letti dei proclami di carattere comunista, chiamando le persone alla vigilanza e ad azioni antifasciste che potessero contrastare quello che loro ritenevano a essere una prima escalation terroristica. L'azione della 22 ottobre prosegue poi con il primo rapimento politico, rapimento per finanziamento politico, quello di Gadolla che era un rampollo della città bene, il padre aveva una serie di cinema in città, era molto ricco e per la prima volta viene rapito per sorvenzionare la lotta della 22 ottobre, che è poi quello che faranno le BR in occasione del rapimento costa e in occasione di altri rapimenti fatti come espropri proletari per sorvenzionare la lotta armata. Il gruppo cade all'indomaglio di una rapina all'Istituto delle Case Popolari, una rapina in cui un commesso di questo istituto viene ucciso, Mario Rossi per riuscire a fuggire spara e lo colpisce probabilmente di rimbalzo, ma lo colpisce e lo uccide e da lì viene arrestato e vengono arrestati con lui sostanzialmente piano piano tutti i componenti di questa banda. Quello che subito appare come l'azione di una banda criminale, di rapinatori, qualsiasi delinquenze, insomma di delinquenza comune, piano piano invece inizia ad apparire per quello che è, e cioè come un gruppo armato di stampo rivoluzionario. E questo accade perché il processo di primo gado che si conclude con una sentenza di condanna per tutti e che appunto è basato su questa teoria di criminalità comune, nell'appello invece inizia ad assumere un contorno di invece strettamente politico grazie all'intervento di una serie di personalità e di ragazzi anche molto giovani, universitari che fanno capo alla sinistra dell'estero parlamentare e che iniziano a fare un controprocesso, cioè a mettere in evidenza come Mario Rossi e i suoi compagni in realtà fossero, agissero per motivi politici e non per motivi di criminalità organizzata. Il processo d'appella avviene nel 1974 con una grande esposizione mediatica perché il controprocesso viene utilizzato dai movimenti, dai gruppi della sinistra estraparlamentare genovese in maniera spettacolare, cioè si riesce a fare, cercano di fare di questo processo un evento che ha anche delle caratteristiche spettacolari, fanno uno spettacolo addirittura a un teatro genovese, compilano un testo sul controprocesso che viene firmato da molti artisti genovesi, del processo si occupano Dario Fo e Franca Rame, vengono coinvolte delle personalità di spicco e di rilievo. Quindi il 1974 diventa per Genova una finestra aperta su quella che è una realtà fino allora negata, una realtà che vede un gruppo armato con delle prospettive, delle intenzioni rivoluzionarie che segnano anche un confine fondamentale secondo me fra il terrorismo e la lotta armata. Il terrorismo è un fenomeno a mio modo di vedere sostanzialmente di destra in Italia ed è un fenomeno che ha come intenzione quella di creare terrore per riuscire a veicolare all'interno della società italiana, dell'opinione pubblica italiana, la possibilità di un colpe di carattere destrosso fascista, per riportare l'ordine, per riportare la calma, per riportare il vivere comune. La storia invece della lotta armata è assolutamente diversa, cioè a partire dal 22 ottobre e poi ancora più con le brigate rosse e con le altre formazioni armate, l'intenzione è un'intenzione rivoluzionaria, non viene colpita, non vengono messe le bombe alla stazione di Bologna o a Savona o a Milano per creare tensione e per finalità terrorista, vengono colpite luoghi, persone con delle finalità rivoluzionarie. Questo non significa naturalmente approvare questo tipo di scelta, però secondo me fare una differenza su questi due piani credo che sia assolutamente fondamentale e credo che uno dei grandi misunderstanding della storia contemporanea italiana è proprio quella di non avere voluto scindere l'azione dei gruppi armati in Italia dalla storia della criminalità italiana, per tutto il periodo degli anni di piombo, l'atteggiamento che sia le forze dell'ordine, sia coloro che avevano modo di intervenire sull'opinione pubblica, è stato quello proprio di non volere scindere le due cose, l'azione dei gruppi armati veniva assolutamente vista come l'azione di un gruppo criminale e di un ma di un'associazione criminale qualunque. Il 74 a Genova mette in risalto per la prima volta questa cosa, esistono, esiste, ha lavorato e ha messo in campo delle forze un gruppo con delle finalità rivoluzionaria e questo gruppo è riuscito addirittura ad avere una serie di contatti ai più alti livelli del pensiero rivoluzionario italiano in quel periodo, ha avuto contatti con i gap di Feltrinelli, ha avuto contatti con svariati centri di elaborazione di un contrasto politico anche molto forte, seppur non ancora armato e ha dato il via e la stura a una pratica armata che in Italia poi avrà un'escalation che durerà fino alla metà degli anni 80. Nel 74 a Genova, oltre a essere il processo d'appello di questo gruppo e quindi della scoperta di questo tipo di atteggiamento armato, è anche l'anno del sequestro di Sossi. Sossi che è stato il PM, è stato il procuratore, il grande accusatore della banda 22 ottobre, che viene rapito dalle Brigate Rosse, viene tenuto prigioniero per 25 giorni e che anche lui inaugura quello che sarà poi, che avrà poi come apoteosi, tragica e terribile il rapimento Moro. Sossi viene prelevato sotto casa sua da un gruppo delle Brigate Rosse che è composto da almeno una decina di brigattisti, dei quali non fanno ancora parte membri della colonna genovese, che in quel momento non esiste ancora. Certo però è che per agire a Genova, per mettere a punto quel tipo di sequestro, che è molto complicato, che di per sé deve avere un supporto logistico forte per capire anche semplicemente come è costruita la città, come è strutturata, per trovare delle vie di fuga, per avere dei punti di riferimento sicuri all'interno della città. Certamente a questo tipo di aiuto logistico fa parte tutta una serie di quella che poi verrà definita la zona d'ombra intorno all'azione delle Brigate Rosse, che in quel periodo faceva capo all'Università di Genova e all'azione soprattutto di Gianfranco Faina che era un docente, anche lì fra l'altro con un'esperienza e con una militanza all'interno del Partito Comunista molto forte, era stato per esempio il segretario della Federazione Giovanile del PC per molti anni e lì si innesca un altro tipo di problema che aveva messo in evidenza anche la storia della 22 ottobre, cioè che queste persone che fanno parte, che entrano a far parte delle versioni di sinistra, hanno degli strettissimi collegamenti con il Partito Comunista, hanno, sono figli o nipoti di partigiani, hanno nel loro DNA delle militanze anche piuttosto lunghe all'interno proprio delle sezioni del Partito Comunista delle loro città, una appartenenza, diciamo così, che il Partito Comunista non riesce ad accettare e che non mette neanche in discussione, lo nega, lo nega a prescindere e questo è stato un altro, secondo me, dei grossi problemi e delle grosse, come dire, dei grossi fraintendimenti sulla lettura dell'esperienza eversiva di sinistra che ha fatto sì che non la si sia capita e la si sia combattuta male anche perché non la si era capita. Il rapimento Sossi, il sequestro Sossi, fra l'altro accende la luce su una serie di connivenze all'interno della questura genovese con delle frange invece delinquenziali molto pesanti. Sossi durante il sequestro inizia a parlare e denuncia i vertici della questura quali artefici di una serie di traffici d'armi, di traffici di diamanti, insomma, butta sui vertici della questura una luce assai fosca e attraverso e subito dopo di loro butta una luce assai fosca su Taviani. Taviani che come Ministro dell'Interno è il dominus che guida poi l'atteggiamento dello Stato nei confronti del sequestro e dei sequestratori, facendosi promotore di una strategia durissima di contrasto assoluto che non viene meno soprattutto al termine del sequestro perché i terroristi per rilasciare Sossi hanno pattuito la scarcerazione di una serie di membri della 22 ottobre e questo non viene poi accordato con una giustificazione capziosa del procuratore capo Coco che dice che in realtà Sossi è libero ma non è libero mentalmente, avrebbe dovuto essere rilasciato in piena salute mentre invece non poteva dirsi tale perché era psicologicamente provato e quindi la liberazione non avviene. Siamo in primavera, in maggio, agosto esplodono altre bombe, c'è Brescia, c'è l'Italicus, sui giornali si inizia a parlare del piano di Edgardo Sogno. Io credo che anche questo secondo me possa aver contribuito a gettare una certa patina di non curanza ma di poco interesse per quello che era avvenuto e che sarebbe avvenuto poi a fine anno a Savona proprio perché davanti a delle stragi di dimensioni così efferate, così scioccanti per tutta Italia, quello che avvenne a Savona era un fatto gravissimo che la città viveva in maniera gravissima ma che probabilmente non riusciva ad arrivare, ad avere un eco nazionale proprio perché doveva fare i conti con delle cose enormemente più grandi ed enormemente più terribili. Non sono in grado di dire perché si sia scelta Savona e perché si siano messe queste sette bombe qui, non ho gli elementi per dirlo. Certo, Taviani con il sequestro Sossi era stato messo sotto riflettori d'Italia in maniera pesante perché era stato dipinto come del suo smacchina di uno stato che faceva dalla repressione il suo modo di agire, di uno stato che aveva nelle forze di polizia, nelle forze dell'ordine dei servizi che avevano collusioni pesanti e forti con la malavita organizzata. Quindi lui come referente politico certamente era stato messo sotto i riflettori. Il fatto che la strategia avversiva poi scelga Savona che è un collegio elettorale di Taviani indubbiamente potrebbe avere un senso, potrebbe avere un'attinenza. però io questo non saprei dirlo perché non ho trovato nelle mie ricerche nessun tipo di riscontro di questo tipo. Può essere un'illazione sensata che ha un senso. Tenete conto poi per di più che nel 75, le Brigate Rosse mettono effettivamente piede a Genova sul serio, cioè viene costituito il primo nucleo delle Brigate Rosse che nasce dal clamoroso successo del rapimento Sossi e che nasce con due azioni, anche quelle significative, una rapina alla carige dell'ospedale San Martino che è guidata addirittura da Mario Moretti e che è una rapina di autofinanziamento e con un sequestro, un sequestro lampo di Casabona che è il responsabile del personale dell'ansaldo, così come Abbate, Macchiarini e altri dirigenti torinesi e milanesi che erano stati sequestrati dalle Brigate Rosse in quelle città, viene preso, portato in una discarica di Recco, viene sommariamente interrogato e poi viene lasciato con i capelli pieni di pece per creare una forma di ludibrio e nel tentativo proprio di tacciare i dirigenti di fabbrica e quelli che vengono poi individuati all'interno delle fabbriche come i garanti della direzione, tacciarli da nemici degli operai e del proletariato. Questa nascita del primo nucleo delle Brigate Rosse a Genova è l'avvio di una stagione diversa naturalmente che poi creerà quella che sarà la colonna meno infiltrabile e più militarmente aggressiva di tutta la storia delle BR. è un'ipotesi che ha portato avanti soprattutto uno studioso di terrorismo che è Framigni, che è peraltro uno studioso che proviene dal PC. Io personalmente nelle ricerche che ho fatto non ho trovato nessun tipo di collegamento che mi potesse fare pensare a un intervento dei servizi segreti all'interno delle Brigate Rosse. Soprattutto c'è un motivo fondamentale del quale tenere conto all'interno di questo discorso, cioè che fondamentalmente le Brigate Rosse rimangono un oggetto sconosciuto agli inquirenti e a chi indaga, sostanzialmente fino all'arresto di Michaletto e Peci a Torino che avviene nel 1980. Prima di allora sono davvero un universo sconosciuto. Essendo un universo sconosciuto è molto più difficile secondo me pensare che sia stato facilmente infiltrabile. La distinzione che viene fatta fra le prime Brigate Rosse, quelle di Curcio, Franceschini, Bonissoli, la Cagolla e quelle di Moretti, secondo me non ha una ragione d'essere. Nel senso che le prime Brigate Rosse erano fortemente ideologiche, avevano questa patina un po' da robinuda, quelli che rubavano ai ricchi per distribuire poi alla loro gente in modo da andare verso una società migliore, più equanime, con delle azioni che erano azioni non particolarmente violente. Mi si dirà un sequestro di persona è una cosa violenta, certo però è una cosa violenta che poi si conclude con la liberazione dell'ostaggio e con una lettura politica di quello che è avvenuto. Le Brigate Rosse di Moretti sono quelle che uccidono, quelle che decidono di alzare il livello dello scontro, che uccidono a Genova Cocco, perché è l'uomo che ha impedito la liberazione dei compagni del 22 ottobre, nonostante gli accordi, uccidono Esposito, perché è un commissario che fa parte di quella che non era ancora la Digos, ma che comunque era uno dei servizi, uccidono i carabinieri, uccidono militari, uccidono Moro poi. Quindi le Brigate Rosse di Moretti sono le Brigate Rosse che si assumono la responsabilità di elevare molto il livello dello scontro, ma sono secondo me le stesse Brigate Rosse, il ragionamento che sta dietro questi omicidi è un ragionamento di tipo rivoluzionario, questo non vuol dire assolverli, per carità, voglio essere assolutamente chiaro su questo, però se andiamo a studiarli, diciamo che così come disse Sciascia all'interno della Commissione, non si capisce che cosa dovrebbe fare un movimento rivoluzionario se non la rivoluzione, non la fai certamente facendo delle conferenze stampa. Quello che avviene forse di discriminante all'interno delle BR è quello che avviene dopo, cioè il conflitto fra Moretti e Senzani, il fatto, questa spaccatura delle Brigate Rosse che mette da una parte al centro il disagio sociale, le carceri, la malavita organizzata, che ritiene come potenziali militanti rivoluzionari una fascia di popolazione che è una fascia molto legata alla malavita organizzata, che sono poi le BR di Senzani e le BR di Moretti che invece sono una struttura militare molto ferrea, molto organizzata e che fa dell'organizzazione militare uno dei suoi centri. Anche lì poi il discrimine, il momento che spacca completamente tutto può essere trovato nel fatto che il gruppo storico delle BR è un gruppo che è incarcerato sostanzialmente da subito e che vive tutto il processo di escalation dell'azione delle BR che stanno fuori dal carcere e invece i brigatisti che sono fuori che si trovano ad operare sul territorio. Certamente fra questi due gruppi il gruppo storico delle BR imputa ai brigatisti che sono fuori il sostanziale disinteresse nei loro confronti. Uno dei momenti di attrito più grosso avviene nel momento in cui salta quello che doveva essere il piano di grande evasione dei brigatisti da Resinara. Moretti non lo fa partire, ha delle ragioni di carattere militari per non farlo partire perché non riuscirebbe a gestire a suo modo di vedere questo tipo di azione, però all'interno del carcere naturalmente la cosa viene vissuta molto male e non a caso Franceschini diventa uno degli uomini più critici nei confronti di Moretti che ritiene essere in qualche modo un traditore. Quindi la differenza fra le BR dell'inizio e le BR di Moretti avviene secondo me per questo motivo, ma non si può legare alle azioni che vengono fatte, le BR di Moretti sono conseguenziali di quelle di di Curcio Franceschini. La prima azione delle brigate rosse genovese, esclusivamente genovese, avviene nel gennaio del 1977 con il rapimento di Pietro Costa. Costa che è il figlio, un rampollo dei Costa degli armatori, quindi una famiglia ricchissima, viene sequestrato, viene tenuto per molti giorni sequestrato anche su sua indicazione, perché nel momento in cui i brigatisti dicono che chiederanno il riscatto di 3 miliardi di lire, lui dice 3 miliardi non li daranno mai nessuno, però noi abbiamo un'assicurazione con il Lloyd che se il sequestro dura più di un toto di tempo ci garantisce una copertura da un miliardo e mezzo, quindi Costa viene tenuto prigioniero per il tempo necessario a che venga pagata questa polizza assicurativa, che i Costa possono adviere questa polizza assicurativa e viene pagato questo miliardo e mezzo che sostanzialmente finanzierà il lavoro delle BR per molti anni, perché questo denaro verrà suddiviso fra le varie colonne e porterà a finanziare azioni di queste colonne per diversi anni, anche perché la compartimentazione delle BR garantiva ai militanti in clandestinità uno stipendio pari a quello di un operario specializzato, quindi uno stipendio abbastanza modesto e il resto veniva utilizzato per acquistare armi, per acquistare appartamenti, covi e c'è un aneddoto abbastanza curioso in questa divisione dei denari fra le diverse colonne, ci sarà Peci che una volta arrestato racconterà che parte di questo riscatto è raggiunto alla colonna torinese e che il problema però era che quando arrivò questo denaro, mi pare guagliardo che era lì, la colonna genovese solo buttava addosso tipo paperon dei paperoni, ma questo denaro aveva un problema fondamentale, cioè che era stato segnato con della polvere luminescente, per cui una volta utilizzato davanti a una fonte di luce diventava fosforescente e quindi si capiva che quel denaro era il denaro del rapimento costa e quindi Peci racconta che una delle sue prime occupazioni come brigattista della colonna torinese fu quella di lavare questi denari con anche sapone e poi stenderli nell'appartamento attraverso, come se fosse del buccato. Il rapimento costa che segna la prima azione vera della colonna genovese viene poi seguita da quello che sarà l'altra caratteristica dell'azione eversiva delle biere, cioè le gambizzazioni. Viene gambizzato il vice direttore del secolo Bruno, che è il primo giornalista gambizzato, ha la sfortuna di essere gambizzato il giorno prima di Montanelli, quindi l'opinione pubblica di Bruno si dimentica perché il gambizzato vero delle brigate rosse e diventa Montanelli. All'interno della città il gruppo, che ha un gruppo di clandestini abbastanza piccolo, perché parliamo di una decina di persone al massimo, che può contare su una serie di non regolari che invece fanno parte della colonna e che alla fine negli anni 80 conterà comunque un numero non spropositato, si ritiene che al massimo la colonna genovese abbia potuto avere 80-100 elementi al massimo. E comunque da lì il rapporto con la direzione di Moretti con Riccardo Dura è un rapporto molto stretto, anche perché la colonna genovese riesce a garantire una qualità di intervento militare molto forte, molto importante, tant'è che al termine il bilancio dei gambizzati sarà intorno alle 17 persone, gli omicidi saranno più di 9 e la grande, la prima azione di carattere omicidiario che viene fatta l'ABR è l'assassinio del commissario Esposito che viene seguito su un autobus e ucciso da una fermata del bus da un comando formato da tre persone. La cosa che poi col seno di poi colpisce è che anche in quell'occasione Dura, che non aveva l'incarico di sparare, interviene successivamente e scarica anche lui la sua pistola su Esposito che è già disteso a terra e morto, che è poi la stessa cosa che succederà con Guido Rossa, è quanto racconta Guagliardo che dice io quando è uscito Rossa sono andato dal finestrino, ho sparato tre colpi e l'ho ferito, in quel momento è arrivato Dura e anche lui che non doveva sparare perché non aveva la pistola silenziata ha sparato anche lui e sono stati quei tre colpi di Dura ad uccidere Rossa. Anche su questo fatto si è aperta tutta una serie di possibili spiegazioni e una, quella che ha avuto più fortuna è quella che in realtà la direzione strategica delle Brigate Rosse avesse sì deciso di gambizzare Rossa per dare un messaggio, veniva punita la spia, l'uomo che aveva mandato in galera un militante delle BR all'interno della fabbrica e veniva punito come spia così come si faceva ai tempi dei partigiani e questa era stata la decisione della direzione strategica ufficiale. In realtà c'è chi sospetta che Moretti e Dura avessero preso una decisione diversa e cioè che a Dura Moretti avesse detto che Rossa doveva essere ucciso. Moretti lo nega e dice anzi che l'azione contro Rossa è stato uno degli errori più grossi fatti dalle Brigate Rosse e in effetti l'impatto che l'omicidio rossa ha sulla opinione pubblica in generale, ma in particolare sul mondo delle fabbriche e del lavoro è un impatto devastante. Se fino al giorno prima le BR in fabbrica e nel mondo del lavoro godevano se non di un aiuto quantomeno di una buonaria ignoranza, venivano sostanzialmente ignorate e considerate comunque quelli che ai tempi si dicevano i compagni che sbagliano, però compagni rimanevano, l'omicidio rossa naturalmente crea un sipario molto molto forte. L'omicidio Coco con Saponare e Diana avvengono nel giugno del 1976, quindi a un anno più o meno dalla costituzione il rapimento di Costa invece viene nel gennaio del 77 e quello stesso gennaio viene gambizzato Bruno e poi vengono gambizzati Sibilla, Prandi, Castellano, tutti nell'arco di quell'anno. Nel giugno 1978, cioè a un mese dal rapimento Moro viene ucciso Esposito e gambizzati altre persone e poi nel gennaio del 79 avviene l'omicidio rossa che crea appunto questa frattura pesante, che però paradossalmente se all'interno delle Brigate Rosse crea un dibattito molto forte, perché una grande parte del direttivo è contraria, stigmatizza l'omicidio di rossa e dice che la colonna genovese ha sbagliato e che ha creato un problema l'organizzazione, sul fronte invece dell'arruolamento della colonna su Genova questo non incide affatto, anzi il numero degli elementi che si avvicinano allora alle BR è molto forte, è molto numeroso, che è un po' una sorpresa se volete, perché in realtà appunto la reazione dell'opinione pubblica davanti all'omicidio lo sarà stata travolgente, tutti ricordano Piazza dei Ferrari piena di gente e l'intervento di Pertini che per la prima volta viene ad omaggiare in forma pubblica un omicidio non di un rappresentante dello Stato, ma di un operaio, eppure le file delle BR della colonna genovese si incrementano e si allargano, tant'è che nel novembre di quell'anno avviene con l'ordine della direzione strategica di colpire il cuore dello Stato vengono l'assassinio di due carabinieri, Tose Battaglini che vengono freddati al bar a San Piero d'Arena e che sono il prologo di altri omicidi di carabinieri perché nel gennaio dell'80 vengono uccisi Emanuele Tottobene, Antonino Caso è ferito gravemente un militare Raimondo e siamo nel gennaio dell'80, febbraio 80 è il momento di svolta per la colonna genovese perché nel febbraio dell'80 a Torino vengono arrestati Peci e Micheletto, ed è l'inizio della fine delle BR, perché Peci come tutti sanno inizia a collaborare e fra le prime cose che dice e che racconta è che la colonna genovese delle Brigate Rosse ha una sede, ha un covo nel quale lui è stato durante una delle riunioni della direzione strategica, è un covo in una via che si ricorda, perché ha un nome strano, si chiama Fracchia come il personaggio di Villaggio e da lì arrivano le forze dell'ordine, arrivano in via Fracchia, arrivano in via Fracchia e il brizzo di via Fracchia è un punto interrogativo enorme, di certo direi che c'è che i rilevamenti balistici dicono che questi 4 brigatisti hanno tutti un colpo alla nuca, di certo c'è che in quel appartamento sono stati sparati una quantità di proiettili spaventosi, di certo c'è che i cadaveri sono messi tutti in fila lungo un corridoio e che hanno le mani tutti sostanzialmente sopra le testa come se si fossero inginocchiati e fossero stati uccisi. Cosa è successo in via Fracchia? Francamente non lo saprà mai nessuno, la versione del capitano Riccio che è quello che poi ha guidato il blitz è una versione che dice siamo arrivati, abbiamo suonato la porta, non c'è nessuno ci ha aperto, abbiamo sfondato la porta, siamo entrati, un colpo di pistola ci ha raggiunto e abbiamo fatto fuoco. Dopodiché all'intimazione di resa i brigatisti hanno detto che si sarebbero arresi, noi abbiamo acceso un faro e abbiamo visto che nel corridoio c'erano delle persone armate, una addirittura con una bomba e quindi abbiamo rifatto fuoco e li abbiamo ammazzati tutti. Questa è un po' la ricostruzione che viene fatta dopo parecchi giorni e con parecchie contraddizioni. Il primo punto interrogativo è hanno sfondato davvero la porta oppure avevano le chiavi dell'appartamento visto che insieme a Peci era stato arrestato Michaletto e Michaletto aveva le chiavi di via Fracchia, anche quella è una cosa che rimane ancorata alle perizie che sono state fatte, che dicono che la porta ha una sola delle serrature sfondate, l'altra è aperta, quindi potrebbe fare pensare a una ricostruzione completamente diversa. Ci sta a che il generale della Chiesa abbia voluto lanciare anche un messaggio molto forte alle Brigate Rosse, perché era la prima volta che venivano obiettivamente colpiti non solo la colonna genovese delle Brigate Rosse, ma le Brigate Rosse in Italia in assoluto, c'era il primo grande successo delle forze dell'ordine contro le Brigate Rosse. Eppure nonostante tutto neppure la scoperta del covo di via Fracchia mina più di tanto la colonna, perché gli altri responsabili di colonna vanno via dalla città, poi ritornano, ma in realtà la colonna continua ad esistere, ad operare, fino al settembre di quell'anno, quando vengono arrestati in circostanze del tutto casuali due militanti di secondo piano, Garigliano e Roggerone che iniziano a raccontare una serie di cose sulla colonna e che iniziano ad aprire una spaccatura che alla fine porta poi piano piano all'arresto e all'individuazione dei vari covi, dei magazzini dove venivano tenute le armi e mano a mano di tutti i componenti della colonna genovese. Alla fine la parola fine sostanziale della colonna genovese avviene poi nel gennaio dell'81 quando a Milano vengono arrestati Fenzi e Moretti, che è un arresto che rappresenta davvero anche, che simboleggia anche il fatto che la stagione brigattista è sostanzialmente finita, perché vengono arrestati nel momento in cui stanno cercando di arruolare delle persone, dei ragazzi, dei giovani per ricostituire una colonna a Milano che si era sostanzialmente dissolta e lo fanno con così tanta ansia, con così tanta spregiudicatezza che cadono poi nella rete di chi li denuncia e fra le persone che contattano c'è chi poi e alla fine li denuncia e li fa arrestare. A quel punto direi che delle BR rimane poi la parte di Senzani, che anche lui cadrà dopo, però la storia fondamentalmente delle brigate rosse genovesi e di fatto poi delle brigate rosse in genere va scemando, si sta morendo. Il titolo Gli Imprendibili è stato scelto come spesso accade dall'editore, però è un bel titolo secondo me, è un bel titolo perché era intanto una qualifica che la colonna genovese si era conquistata sulle pagine dei giornali e per l'obiettiva difficoltà di definire i suoi membri, che erano e che sono stati davvero per 5 anni imprendibili e completamente sconosciuti. non c'è stata nessuna indagine di polizia in quegli anni che si sia neanche minimamente avvicinata a questi uomini, ai vertici delle BR, non avevano idea di chi fossero, soltanto è vero che durante il blitz di Via Fracchia trovano i documenti della Ludman, di Pancerelli, di Besatz, ma non ci sono quelli di Dura, perché Dura non abita lì, Dura è rimasta a dormire per una ragione che è rimasta misteriosa, probabilmente c'è qualcuno che dice lì in domani avrebbe voluto fare un attentato a non si sa bene chi, comunque era lì per caso, non aveva documenti, la polizia non sa chi è, non ha idea di chi sia, non sa come si chiama, non sa nulla di Dura ed era il capo delle BR a Genova, il nome di Dura viene fatto poi dalle Brigate Rosse che fanno un comunicato dicendo che hanno ucciso queste persone. la lettura che è stata fatta negli anni di questo fenomeno, credo che sia stata un po' regolata dal timore di essere giudicati in qualche modo sostenitori di questo tipo di lotta, cioè il non aver voluto individuare, così come dicevo prima, una motivazione politica all'interno di questo movimento, ma aver cercato comunque sempre di ragionare sul fenomeno da un punto di vista criminale, credo che abbia fondamentalmente due ragioni, la prima è che giudicare dei criminali, rapportare questo tipo di problema alla criminalità organizzata toglieva qualsiasi tipo di imparazzo a qualsiasi forza politica, PC in testa naturalmente, ma in realtà a tutta la classe politica e a tutta la politica di quegli anni in Italia. la seconda che certamente faceva gioco utilizzare la strategia della tensione con la teoria degli opposti estremismi, veicolando entrambi i fenomeni in atti di criminalità contro la società e non contro lo Stato o il governo costituito. E poi credo che dare alle BR un'etichetta politica fosse forse imbarazzante da parte dei partiti di governo e anche non di governo. In fondo la Vicenza Moro ha una ragion d'essere anche su questo fronte, i partiti di raccolta costituzionale si rifiutano di trattare con le Brigate Rosse non perché con i delinquenti non si tratta, perché trattare con le Brigate Rosse sarebbe stato dare loro un riconoscimento di un'azione politica, seppur perversa, criminale, assurda, pazzesca, possiamo etichettare in tutti i modi, però comunque un'azione politica. E quindi credo che questo tipo di atteggiamento, anche da un punto di vista intellettuale, sia continuato per molti anni e fino adesso. A me è capitato di essere accusato, comunque tacciato larvatamente, naturalmente con tutti i distingui possibili, però di avere fatto un po' l'apologia della corona genovese, che è assolutamente lontanissima dalla mia idea e lontanissima dagli obiettivi del mio libro. Però sembra che a volere cercare di capire le ragioni per le quali delle persone che avevano 26, 25, 28 anni, che avevano una vita tutto sommato normale, erano impiegati, operai, professori, della gente che svolgeva delle attività qualunque e qualsiasi, che aveva avuto un'esperienza politica, le più svariata, perché c'era anche gente che arrivava da cattolici del dissenso, certamente dal PC, da lotta continua, da poter operaio, cioè da comunque una galassia vastissima che a un certo punto si mette in gioco in maniera così pesante, in maniera da devastare la propria vita. Decidono di entrare in clandestinità, di tagliare con qualsiasi tipo di rapporto che hanno fino allora ottenuto e di fare delle azioni di grande impatto anche psicologico. Non credo che uno si improvvisi assassino così tanto con facilità, cioè uno non credo che il membro del gruppo o guagliardo che gli ordinano di sparare, comunque decide di sparare a Guido Rosso, non ha mai sparato a nessuno in vita sua, non è un killer, è uno che deve fare i conti con la propria coscienza e con quello che ne consegue. Per cui che nessuno voglia prendere in considerazione anche quello, cioè domandarsi come mai, che cosa è successo, cosa succedeva in quegli anni in Italia da fare in modo che una persona potesse decidere di fare una scelta così drastica, così pesante, così devastante per la propria vita. Non si riesce a fare, nonostante a 30 anni, 40 anni di distanza, a fare un ragionamento politico sulle brigate rossi senza essere tacciati o di filobrigatismo o comunque di persone che tentano, che hanno voglia di rivalutare l'azione delle Biel. Questo è un po' figlio di quello che poi è stato durante tutto il periodo degli anni di piombo, e cioè che le varie forze politiche hanno nascosto la testa sotto la sabbia e è stato molto più facile per il PC di allora indicare queste persone come dei delinquenti comuni che avevano come unico obiettivo quello di destabilizzare lo Stato e di impedire la proda compromesso storico, senza volere capire, intendere e discutere di nient'altro. Semplicemente come in tutta la vicenda delle BR ci sono da farsi delle domande, delle domande molto tranquille cercando delle risposte sensate e vere e che non siano quelle sì veicolate da una visione politica a prescindere. Il Partito Comunista certamente nei confronti della stagione del brigatismo secondo me ha sbagliato quasi tutto. Forse era difficile capire allora, erano probabilmente degli errori fatti in buona fede, ma si è davvero trincerato dietro una patina di, non so neanche io come dire, di difesa. L'importante era dire, questi signori non fanno parte della nostra storia, non fanno parte del nostro album di famiglia come ne scrisse Rossana Rosanda, buonanima.